Bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il Cavaliere Oscuro di Youtube per questo nuovo video. Allora ragazzi, in questo nuovo video torniamo a parlare di servizi in streaming e oggi, anzi stasera, vogliamo parlare di Amazon perché finalmente anche Amazon ha creato un servizio in streaming per giocare ovviamente il diretto concorrente rivale di Google Stadia. Infatti, a pochi giorni di distanza dal lancio di Project xCloud e con il programma di Google Stadia ormai avviato da diversi mesi, anche Amazon abbraccia il Cloud Gaming presentando Amazon Luna, un servizio in abbonamento che permette di accedere ai streaming e a un catalogo di oltre più di 100 giochi. Ovviamente, nel corso della presentazione organizzato da Amazon, il Colosso ha confermato la propria intenzione di infatti di inserirsi nel crescente mercato dei videogiochi su Nuvolaspe, svelando la propria soluzione per il game streaming. Infatti, attualmente Amazon Luna sarà disponibile a breve ad un prezzo promozionale di lancio che negli Stati Uniti sarà di 5,99$ per la sottoscrizione mensile. L'abbonamento al servizio, chiamato Luna Plus, fornirà l'accesso in remoto ai server di Amazon con la possibilità di giocare su due dispositivi contemporaneamente ad una qualità di trasmissione dell'esperienza ludica che, per alcuni titoli selezionati, raggiungeranno anche 4K e 60 frame per secondo. Ovviamente, quanto ai contenuti, Luna Plus comprenderà più di 100 giochi, tra i quali spiccano Control, Resident Evil 7, Yooka Laili, Grid, Abzu, Panzer Dragon, A Plague Tale Innocence, The Surge 2 e Brothers A Tale of Two Sons. Amazon poi ha inoltre annunciato di avere stretto anche un accordo commerciale con Ubisoft per un canale aggiuntivo con dei titoli dei publisher e sviluppatore francese. Infatti, gli utenti di Amazon Luna, pagando l'abbonamento a parte, potranno accedere all'Ubisoft Channel e accedere sin dal lancio a giochi, per esempio, come Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortal Phoenix Rising, con risoluzione fino a 4K e un framerate che varierà in funzione del titolo. Ovviamente, per il momento, le registrazioni alla fase in accesso anticipato di Amazon Luna attualmente sono già aperte soltanto per l'America, mentre non conosciamo ancora le tempistiche di lancio a livello internazionale. Almeno inizialmente, però, il servizio in game streaming di Amazon ovviamente sarà accessibile su PC, MacOS, Fire TV Stick, iPad e successivamente anche su altri smartphone e tablet iOS e Android. Ovviamente, in cima alla notizia, Amazon ha anche presentato il controller opzionale acquistabile al prezzo di 49,99$. Ovviamente, voi ragazzi, come sempre, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo servizio che ovviamente diventerà per forza il concorrente di Google Stadia, naturalmente, come sempre ragazzi, fateci sapere voi cosa ne pensate di questi nuovi servizi streaming, scrivetelo nei commenti, fateci sapere voi cosa ne pensate, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un like se vi è piaciuto questo nuovo video e come sempre, naturalmente, cercheremo di tenervi aggiornati su queste novità. E naturalmente, ragazzi, continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirci, iscrivendovi al canale. A presto ragazzi per un nuovo video. Ciao, a presto!